ragazzi il mio ordine è preso sub shop preso esattamente il 1801 2019 oggi come vedete il 1903 pagato solamente 270 euro quasi come vedete non è fake è un ordine normale e ringrazio ancora bush hop e non date retta ad alcuni rosigoni che dicono che ci sono solamente un box in fake assolutamente falso grazie ancora pacco arrivato da bush hop vediamo cosa dentro ok 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 anche le cuffie wow il caricabatterie il caricabatterie purtroppo si presenta in versione cinese ma bush hop serio come sempre nella confezione mi ha riservato anche un caricabatterie europeo anzi un adattatore grazie ancora grazie 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 grazie